Ciao a tutti e benvenuti su mio canale! Eccomi qui anche oggi con un nuovo video tutorial, questa volta un tutorial di riciclo. Bene, vi faccio vedere come creare un simpatico centrotavola appunto di riciclo utilizzando come prima cosa una tortiera in ceramica, quelle classiche da crostata, che io in questo caso qui ho bianca, una bottiglietta di coca cola in vetro, queste qua piccoline e poi dei bicchieri d'acqua colorati. Benissimo, iniziamo subito, sposto un attimo la mia tortiera che ci servirà più tardi, partiamo con la bottiglietta di coca cola debitamente svuotata, lavata, tolta l'etichetta. Bene, vi serve un po' di gavettina beige, fina fina, per andare a coprire la data di scadezza che direi è molto antiestetica. Partiamo subito, giriamo intorno la gavettina, intorno alla bottiglia, un attimino che sono storta, ecco qua, andiamo a rigirare, adesso faccio una cosa, magari, ecco qua, non vuole stare, iniziamo bene, perché poi sono anche messa male, perché stavolta la videocamera è alta, 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 perché poi se no non si vede il resto, comunque non importa, ce la facciamo comunque in ogni caso. Andiamo a girare intorno, poi ve lo mostro meglio, qualche giro, molto semplicemente, per coprire appunto la stampa della data. Eccoci qua, benissimo, taglio, torno avanti, faccio due nodini, ecco qua che ce l'abbiamo fatta, un altro, e un piccolo fiocchetto, che non fa mai male, fiocchetti a volontà ovunque e dovunque. Perfetto, taglio via la gavettina in eccesso e ci siamo. Perfetto, secondo passaggio, un po' di nastrino, in questo caso stampato floreale, che vado ad applicare fatalità sul bordino dove c'era l'etichettina della Coca Cola. Quindi prendo la misura del giro, più o meno, taglio, un po' di colla a caldo, adesso ovviamente io non la incollerò su tutti i lati, semplicemente vado a sormontare nastro su nastro e lo blocco sul retro. Quindi mi posiziono, colla e vado a bloccare il nastrino. Benissimo, e la mia bottiglietta da così è diventata. Così, molto semplicemente. Perfetto, metto da parte un attimo la bottiglietta, prendo il mio bicchiere colorato, qui mi servirà un po' di juta, questa qui è non bordata, non stirata, altezza più bassa, circa 5 cm. Vado a fare lo stesso lavoro, quindi prendo la misura del bicchiere, giro intorno la juta, taglio fino ad arrivare a un piccolo sormonto, più o meno. Poi voi le cose le fate più precise, mi raccomando, perché io adesso, avendo il cellulare tra le mani e il cavalletto e tutto, faccio relativamente un po' di fatica ad essere precisa. Poi voi con calma a casa vi potete mettere comode e fare tutti i passaggi fatti per benino. Bene, riprendo in abbinamento di nuovo il mio nastrino floreale. Stessa identica cosa, questa volta parto dal sormonto, giro, arrivo e taglio. Cose molto semplici e molto veloci. Blocco il primo pezzetto sull'aiuta e poi blocco il secondo nastro su nastro. Tutto quanto ovviamente da un lato che sia poi il retro del bicchiere, anche se comunque non è che si nota moltissimo l'aggiunta. Perfetto, davanti vado ad applicare un piccolo cuoricino strass, sempre con un goccio di colla. Quindi il retro lo lasciamo dietro dove c'è l'aggiunta, davanti vado a mettere il cuoricino. E come questo ne preparate un altro identico, cioè due, poi se li volete usare dello stesso colore o fare bicolor, come preferite. Benissimo! Adesso riprendiamo la nostra tortiera da crostata. Eccola qua. Ecco, aspettate che sposto un attimo, perché sennò qui a video non ci siamo. Riprendo la mia bottiglietta. In questa bottiglietta cosa metterci? Dei fiorellini. Che siano veri, che siano finti, vi potete sbizzarrire. Io nel frattempo ne ho preparati di finti, da stare in tema rosa come nastrino. Li ho già tagliati con il tronchesino a misura. Infilo dentro il mio vasettino bottiglietta coca cola, che però insomma, avendo anche una forma molto carina, non si direbbe magari a primo impatto. E abbiamo posizionato il nostro vasetto con i fiorellini. Secondo passaggio, prendiamo i nostri bicchierini, bicchieroni anzi, ci mettiamo un po' di acqua. Spero di non fare danno. Incrociate le dita anche per me. Ecco qua, un po' di acqua direi che è più che sufficiente. Non facciamo sgocciare. Anche l'altro. Eccoci qua, casomai poi ne riaggiungo. Candeline galleggianti famose che uso molto spesso. Inseriamo. Eccole qua. Perfetto, adesso vi mostro meglio perché sono un po' giù del video. e vado ad inserire nella mia tortiera. Ecco qua, molto carino direi. Adesso per coprire i buchi, nel senso che a me non piace molto vedere la tortiera, qui vi potete sbizzarrire, utilizzare della sabietta colorata, del purpurì profumato, conchiglie, qualsiasi cosa. Oggi io volevo utilizzare un po' di trucciolo di legno paglietta naturale. Appunto, sono dei trucciolini di legno. Bene, andiamo a posizionare. Avvicino un attimo il tutto, cercando di non fare danno. Poi ve lo rimostro. Ecco qua. Trucciolo di legno che mi dà un po' l'impressione sempre tipo stile sciabbi come un po' tutta la composizione. Poi ovvio che non è che per forza deve piacere e ci si può sbizzarrire utilizzando altre cose che magari avete anche a casa, tipo la sisal, tipo si è appunto, ripeto, riprofumato, quello che volete, quello che avete e che magari riuscite a riciclare senza andare a comprare mille cose, perché questo appunto è un centro tavola di riciclo. Fra un attimo ritorno nel video, portate pazienza. Ci siamo quasi. Questo purtroppo non potevo prepararmelo prima, ovviamente. Togliamo via un po' di truccioli. ecco qua. E ci siamo con i miei trucciolini di legno. Perfetto. Ultimi passaggi. Sposto ancora un po' di paglia che praticamente si è dispersa su tutto il tavolo. Allora, prendo per decorare anche dall'altro lato. Stecche di cannella sbiancate, quindi primaverili estive. Con il tronchesino, che è questo ornese qui da elettricista, me le è andate a tagliare a misura. Quindi qui è un colpo secco. Io ne ho già preparate tre. Eccoli qua. Me li vado a legare con un po' di raffia in tinta ai fiori e al disegno del nastrino, quindi tutto in abbinamento. Per quella cosa lì sono abbastanza fissata. Per chi mi segue penso che lo avrà capito. Leggo il mazzettino di cannella. Ora vi mostro, eh. Fatemi fare il primo nodo di bloccaggio. Ecco qui, modo da creare un piccolo mazzetto. Secondo nodo. Eccoci qua. Poi andiamo a fare un fiocchetto. Perfetto. Raffia, come sapete, basta sfilacciarla e aprirla in questo modo per dare ulteriore volume. Ecco qui. Taglio via i filetti in eccesso e vado a posizionarmelo qui da un lato. Ecco qua per decorare ulteriormente. Benissimo. Poi davanti invece adesso io sposterò un po' lateralmente le due candele. Perfetto. Ci metterei una targhettina in metallo Welcome, che fa sempre piacere se magari avete degli ospiti. Messa in questo modo, dentro la paglietta. Perfetto. E ultima chicca, che magari ci avrei potuto pensare anche prima, ma mi è appena venuto in mente, quindi al via del tutorial live, un ulteriore cuoricino qui che fa da appunto luce per chiudere il nodino del fiocco. Colla a caldo e vado ad applicarlo. Poi ovviamente vi potete sbizzarrire con tutte quate le applicazioni, cose che avete in casa. Chi più ne ha, più ne metta. Ecco qua è il mio centro tavola di riciclo. Stile shabby chic, chiamiamolo così. È pronto. Spero che vi sia piaciuta la mia idea. Spero che avrete modo di provare a realizzarlo con le cosette che magari avete in casa, riciclando e viva il riciclo. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima. Ciao a tutti!